Bentornati all'appuntamento con TG Tech, andiamo subito a scoprire insieme quali sono gli argomenti di oggi 19 marzo 2009. Batterie Boston Power per HP, ora disponibili. Parità di prezzi tra SSD e rischi meccanici? Probabile secondo Samsung. AMD e Intel ai ferri corti. Cellulari e musica, Vodafone e Nokia in prima fila. Mass Effect 2 in arrivo nel 2010. Interessanti novità nel campo delle batterie. HP ha ufficializzato la disponibilità delle batterie Boston Power, studiate per assicurare un'efficienza invariata per un periodo fino a tre anni. Boston Power è un'azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie per il miglioramento dell'efficienza delle batterie. In particolare la tecnologia Sonata consente di mantenere inalterata per un periodo fino a tre anni l'efficienza della batteria. Tramite un comunicato ufficiale congiunto, HP e Boston Power hanno comunicato l'effettiva disponibilità delle batterie. Le nuove batterie saranno disponibili come accessori per 18 modelli di notebook HP, un numero che rappresenta circa il 70% della produzione HP. In particolare si tratta delle serie HP Pavilion, HP HDX, Compact Presario e HPG. È risaputo che i Solid State Drive, ossia le unità disco realizzate con chip di memoria, hanno un prezzo di acquisto per gigabyte superiore a quello dei dischi a piatti rotanti. Samsung si è detta però convinta che sarà possibile ad arrivare a un punto di pareggio a livello di prezzo per gigabyte in virtù del continuo abbattimento dei costi di produzione dei chip di memoria. Samsung non ha dato una scadenza indicativa, parlando genericamente di un pareggio entro qualche anno. Bisogna sottolineare come sia probabile che il pareggio venga raggiunto da prima sui dischi di capienza inferiore, in quanto a parità di chip utilizzati, il prezzo di un Solid State Drive cresce linearmente con la capacità. Diverso è il discorso dei dischi a piatti rotanti, per cui gli SSD di elevata capacità continueranno a costare più dei dischi tradizionali ancora per parecchio tempo. Ecco a voi ora il consueto approfondimento dall'hardware. La notizia principale di questa settimana è incentrata sulla diatriba che vede contrapposte AMD e Intel. AMD ha completato nelle ultime settimane l'operazione di spin-off delle proprie attività produttive all'interno di una nuova azienda chiamata Global Fundries, della quale AMD è socio. Intel contesta AMD la violazione di alcune norme dell'accordo di cross-license che regola la capacità produttiva delle due aziende. Nella produzione di processori infatti sono implicate tecnologie e proprietà intellettuali sviluppata sia dall'una che dall'altra. Senza accordi di cross-license nessuna delle due in teoria potrebbe produrre processori in autonomia. Intel contesta ad AMD il fatto di aver trasferito l'accordo di licenza a questa nuova società, venendo a mancare però alcuni degli elementi base dell'accordo di licenza, cioè il fatto che questa società debba essere riconducibile direttamente ad AMD. AMD contesta questa posizione di Intel specificando come detenga il 34,2% circa del capitale sociale di Global Fundries. D'altro canto AMD detiene anche il 50% dei voti del consiglio di amministrazione di questa società. Questi due elementi rispecchiano alcune delle linee guida che vengono specificate all'interno dell'accordo di cross-license identificando una società sussidiaria di uno di due produttori. Una società sussidiaria è autorizzata alla luce dell'accordo di cross-license alla produzione di processori per conto di una delle due aziende. Quali saranno le implicazioni dirette? C'è la ventilata milaccia di poter far sospendere la produzione di processori dietro un ordine di un giudice entro 60 giorni. D'altro canto noi riteniamo questo uno scenario percorribile in quanto sarebbe deleterio per l'intero settore oltre che per entrambe le aziende. È più facile che AMD e Intel vogliano risolvere la questione in una forma privata, magari riconoscendo una all'altra qualche cosa in più rispetto a quello che non viene fatto adesso. Gli scenari possono essere un pagamento dei royalties un po' più alte da parte di AMD per l'utilizzo dei proprietari intellettuali di Intel, oppure delle rinunce da parte di AMD circa alcune delle posizioni che sono state prese nella lunga causa di antitrust che la vede controposta ad Intel. Da ormai un po' di tempo a questa parte. Da quando i brani in formato MP3 hanno incominciato a incontrare i favori del grande pubblico, il mondo della telefonia mobile e quello dell'intrattenimento musicale si sono sempre più legati, in particolare grazie alla convergenza tra telefono cellulare e lettore multimediale. Per questa ragione la distribuzione di musica non è più appannaggio solo delle major, ma anche operatori e grandi marchi della telefonia hanno spostato il loro interesse sui servizi che offrono la possibilità di ascoltare e scaricare musica. Grazie all'accordo con importanti major, tra cui figurano Universal Music Group, Sony Music Entertainment ed Amy Music, Vodafone la settimana scorsa ha deciso di mettere in vendita sul suo music store musica priva di DRM. Inoltre i clienti che avessero già acquistato dallo store i brani delle major sopracitate in formato Windows Media Audio potranno aggiornare i propri file scaricandoli nella versione MP3. Nokia ha invece ufficializzato che il servizio Nokia Comes with Music arriverà il 27 marzo prossimo anche in Italia. Si tratta di un servizio che offre un anno di accesso illimitato all'intero catalogo del Nokia Music Store e la possibilità di tenere tutti i brani scaricati anche una volta terminato questo periodo. I brani possono essere scaricati sul PC e poi trasferiti al cellulare oppure solo con il modello Nokia 5800 Express Music scaricati direttamente dal cellulare. Una volta scaduti i 12 mesi di utilizzo del servizio l'utante potrà continuare ad ascoltare i brani scaricati ma con le stesse limitazioni del periodo di attività, ossia solamente tramite il PC e il cellulare registrati al momento dell'accesso al servizio. Mass Effect 2 arriverà nella prima parte del 2010 su PC e Xbox 360, lo annuncia ufficialmente il produttore Electronic Arts, che in passato aveva rivelato il nuovo atteso gioco di ruolo con un teaser trailer. Rimane quindi esclusa al momento PlayStation 3. Lo storico sviluppatore Bioware promette combattimenti più intensi, un maggior numero di opzioni per le armi, più possibilità nell'esplorazione e una storia ancora più emotiva. Restiamo nel mondo dei videogiochi con l'annuncio di CryEngine 3, la nuova piattaforma tecnologica dello sviluppatore tedesco Crytek. CryEngine 3 verrà mostrato per la prima volta al Games Developers Conference, che si svolgerà dal 23 al 27 marzo. La nuova tecnologia è compatibile con Xbox 360, PlayStation 3, con i sistemi DirectX 9 e 10 e con la prossima generazione di console. Il pacchetto comprenderà la nuova versione dell'editor di livelli sandbox e gli strumenti di sviluppo per le software house. Anche per questa edizione è tutto, vi rimandiamo alla prossima puntata.